Il peggior giocatore di software è quello che non si crede un nerd e crede di appartenere alle forze speciali. Alcuni lo chiamano sport. Uno sport, una disciplina, non saprei come descriverla. Sport, passatempo, hobby, chiamatelo come volete. Con un solo termine è abbastanza difficile. Simulo di essere qualcosa che è la cosa migliore che mi sia capitata nella vita. Lo scopo alla base è divertirsi. Trovo solo giocatore di notte. E' un solo termine, è un solo termine. Tutto comincia nella natura, il nostro habitat preferito. Sappiamo come rispettarla e come prenderci cura di essa. Mi chiamo Riccardo e sono un giocatore di Softair. Potrà sembrarvi strano o addirittura inutile. Ma prima di una partita, il nostro abbigliamento cambia completamente. Si trasforma, si altera, si adatta. Intorno agli anni 70, alcuni boscaioli del New Hampshire cominciarono a spararsi per gioco con i loro marcatori a vernice. Strumenti usati per segnalare gli alberi da abbattere. Nasce così il paintball. Fu negli anni 80 che in Giappone venne modificato e adattato secondo le esigenze del momento, fino a diventare quello che ora chiamiamo Softair. E' buffo, lo so, pensare al fatto che intere squadre si incontrino per andare a spararsi pallini nei boschi. Ma andate oltre. Guardate oltre al nostro abbigliamento. E non soffermatevi sui nostri fucili. Sono totalmente innocui. Dietro a tutto questo vi è una preparazione fisica e mentale che ci porta a collaborare per il fine di una buona partita. Descrivervi la sensazione che si prova quando un avversario si trova a pochi metri da voi è davvero difficile. Ma difficile non è farvi vedere quanto possa essere emozionante il nostro mondo. Benvenuti. Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Quello che mi piace del Softair è che sostanzialmente sei obbligato e sei anche spinto a stare con le persone e questo ti insegna tanto perché la persona che è davanti magari puoi interpretarla come un avversario come anche un tuo, un tonico, un tuo compagno di squadra. Il Softair è un sistema per oggettivizzare qualcosa che i ragazzi solitamente astraggono, virtualizzano e quindi questo può essere anche un sistema, un luogo che ho trovato essere eccezionale. Il cuore inizia a battere fortissimo, però dall'altra parte hai una grande scarica di adrenalina, una grande carica perché vedi che i tuoi compagni sono nel tuo stesso stato d'animo e quindi si dà sempre il massimo per raggiungere l'obiettivo. È anche un gioco di fiducia, bisogna, quando si è colpiti, bisogna dichiararlo. A chi si avvicina a questo sport posso dare un consiglio solo, pensa divertirsi. A chi si avvicina a questo sport posso dare un consiglio solo, Cioè, capito? Il software è un sacco di roba.